Oggi la Sacra Scrittura, tramite l'esempio di Abram e di Lot, ci mostra la concretezza della fraternità, perché si viene a creare un problema concreto, un problema che fa parte di noi uomini, di parenti che si trovano a condividere dei beni, che diventano anche dei beni che vanno a crescere e che potrebbe inevitabilmente creare discussioni. Cosa fanno Abram e Lot? Avendo tanti beni, avendo tanti armenti da pascolari, allora si dividono perché questo evita di creare discussioni. Quindi la fraternità, la vera fraternità, si concretizza anche nella praticità. Non è detto che perché si sono separati viene meno la loro comunione, anzi, si viene a creare un legame di comprensione, un legame di vicinanza e questo lo comprendiamo a partire dalla parola di Dio che illumina anche questi ambiti e questo ci comporta a comprendere il Vangelo che dice non date le cose sante ai cani. Cosa sono le cose sante? Chi è il santo? Chi è quella cosa santa che noi vediamo tutti i giorni? È l'uomo che immagina di Dio e l'uomo ha bisogno di questa praticità della fraternità, l'uomo ha bisogno di queste attenzioni. Solo vivendo nella vera fede è possibile guardare oltre ed è possibile, come dice anche il Vangelo, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fate da loro. Solo la fede, solo il mistero di Dio ci dona questa sensibilità ad andare oltre e ad essere in ogni situazione veri uomini e veri persone che sappiamo costruire fraternità attorno a noi. Buona missio.